bentornati un altro video amici oggi ne parlare un altro liquido molto interessante molto interessante ed è il creepy caramel di de oro è un 20 ml a cui va aggiunto ovviamente 30 ml di vicina vegetale e 10 ml di booster con o senza nicotina sempre come vi pare a voi quindi adesso io lo preparo poi lo soggiamo insieme e sentiamo un po com'è e vi dico le mie impressioni eccoci pronto preparato agitato bene 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 quindi c'è l'immagine della vampirina qua sopra creepy caramel ricorda un anche il periodo in cui siamo di halloween e tutto quello che ne consegue quindi è un caramello salato caramello salato detto finito fatto così vi dico già che è molto buono è molto buono però è un liquido da assaporare nel senso che non fermatevi alla prima sapata e tirate le conclusioni perché se no non dà giustizia diciamo alla bontà di questo liquido è delicato abbastanza delicato come come caramello si sente quella parte un po acidina un po secca del caramello nello stesso tempo il salato c'è ma non è predominante il caramello è buono è molto buono quindi io andrei assaggiarlo nei negozi e lo prenderei non credo che sia un day anche perché è un gusto molto deciso nel senso che è quello che lì non si scappa per cui voglio dire alla fine può risultare alla fine un po noioso non noioso però la lunga magari un po stanca però ragazzi questo qua non è dopo pranzo dopo cena il caffè è un bel è un bello svapare mixato molto bene è mixato bene il suo equilibrio non è così diciamo di rompente forte il settore di caramello proprio sotto quindi essendo salato hanno messo anche una parte un po dolce giusto per contrastare che se no sarebbe troppo troppo salato è molto buono e fatemi sapere se vi è piaciuto il video commentate ditemi se andrete assaggiarlo così l'avete già assaggiato cosa ne pensate iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video con la supervega sul vapatona ciao